Stadio Comunale di Chiavari, ritorno dei quarti, play-off si riparte dal successo per 2-1 maturato all'andata all'Adriatico. Giovanni Cornacchia e Bianchazzuri basta il pareggio, Entella condannata a vincere con qualsiasi risultato. Liguri in emergenza, ben 6 defezioni, non al meglio. Zappella parte dalla panchina, recuperato Paolucci al suo fianco. Rada 3-4-1-2 tra le linee Meazzi alle spalle del tandem d'attacco. Zamparo, Mercai, Pescara privo di Lescano e Mesic torna Capitan Brosco dal primo minuto. La novità sostanziale, Cupone al centro dell'attacco, ai lati Merola e delle Monache. Abbiamo visto già la conclusione sul calcio franco di Paolucci, che è stato recuperato a tempo di record. Poi il Pescara innesca quest'azione d'attacco con Merola, il pallone per Craia, il suo sinistro. C'è il primo intervento della partita, ad opera del portiere dell'Intella Borra, classe 1995. 95 ha prato il rigore invece di andata a Lescano, ma sul capovolgimento d'azione l'errore di Milani. E poi Mercai, che prova a sorprendere, senza esito però, il portiere Biancazzurro, Plizzari. Dunque tutto in 40 secondi. La conclusione di Craia e poi l'errore di Milani e il tiro di Mercai. Mercai che segnerà un gol in questa partita, attenzione, ancora formazione Ligure con Meazzi, un giocatore molto interessante, pallone che termina di un soffio a lato, alla destra della porta, difesa da Plizzari. Inquadrato Mercai, ma in realtà l'autore del tiro era stato Meazzi, classe 2001. Poi c'è questo tentativo di Cupone, il fallo, il fallo di Reali, il primo giallo, che viene combinato al classe 2003, era assente Sadiki, era non ancora al meglio Pelizzari. Insomma, il tecnico Volpe dà spazio a questo giovane, a munizione decisiva, perché poi verrà espulso nel secondo tempo. C'è la conclusione di Berola, che aveva soffiato il pallone a un avversario, poi quella di Craia. Ci sono tre conclusioni nello specchio della porta. Ci prova anche Cupone. Poi sull'ennesima respinta, ancora Craia con la deviazione decisiva di Rada, oltre la traversa della porta difesa da Borra. Siamo giunti al diciannovesimo minuto. Dunque quattro conclusioni, di fatto, nella stessa azione con il Pescara. Molto pericoloso, ancora Merola, molto vivace in avvio di partita. La verticalizzazione avrebbe dovuto incrociare qui Cupone. Non era facile, la palla sorvola. La traversa della porta difesa da Borra. Applaude comunque la giocata del compagno di squadra Cupone. Poi, versante opposto, c'è ancora Mercai, che controlla la sfera. Il passaggio per Rada, il suo sinistro, altissimo, sopra la traversa, naturalmente, la porta difesa da Pizzari. Trettesimo minuto, 0-0 il parziale. Siamo al trettacinquesimo. Calcio di pulizione di Craia. Il colpo di testa di Brosco, forse un tocco con il braccio. Poi, bravissimo Cupone, a crearsi lo spazio con la suola. Tocca il pallone, si fa spazio e conclude. Riesce solo a deviare Borra. Il gol del vantaggio del Pescara. Minuto 36 a Chiavari. Pescara 1, tela 0. E Cupone torna a segnare dopo sei mesi di digiuno. L'ultima volta, il 30 novembre, sul campo del Virtus Franca Villa. Riveniamo ancora una volta, perché è stato molto bravo Cupone. Il colpo di testa di Brosco, ci sono anche delle proteste da parte, tra l'altro, motivate. Perché c'era, secondo noi, il fallo di mano del numero 26 Manzi. E poi, bravissimo Cupone, che gioca di suola, se possiamo dire così. Si crea lo spazio e poi la conclusione riesce solo a deviare Borra. Attenzione, perché replica subito dopo Paolucci, innescato da una grande giocata di Zamparo. Ed è ottima la risposta di Pizzari. Bravissimo la circostanza, perché vede il pallone all'ultimo momento. Tiene bassa la palla Paolucci, che va poi a calciare il calcio d'angolo. Azione confusa all'altezza dell'area piccola. C'è un tiro ravvicinato di Manzi. Il direttore di gara vede il tocco con il braccio di Brosco. Sicuramente i dubbi sono tantissimi, perché Brosco tiene il braccio molto attaccato al corpo. Tra l'altro, distanza ravvicinata. Viene ammonito Brosco, salterà la prossima partita perché era diffidato. Rivediamo. Guardate qui la conclusione del numero 26, Manzi. Insomma, il braccio ci sembra piuttosto attaccato al corpo. Non ci sembra che ci siano gli estremi del calcio di rigore. Non è così. Non è dello stesso avviso l'arbitro. Il rigore e l'esecuzione impeccabile di Mercai. Ci sono 16 in la stagione per l'attaccante italo-albanese, classe 97, che si è messo in luce. Tre stagioni orsono, stagione 2020-21, nel vasso Girardi di Fabio Prosperi. Eccolo qui, il rigore. Nulla da fare. Esecuzione davvero impeccabile da parte del numero 33 dell'Entella. 1-1 al 45esimo del primo tempo. Siamo nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Qui rimane un po' a dormire la difesa biancazzurra. C'è la finta di crossare da parte di Paolucci. Palla indietro per appunto Meazzi, che conclude a fil di palo. Poi la seconda ammunizione combinata a Reali per un fallo commesso ai danni di Merola. Bravo Merola scipare il pallone del giovane difensore, classe 2003. Anche lui qui si era addormentato. Secondo giallo, 51esimo. Entella in dieci. Il Pescara dunque può sfruttare la superiorità numerica. Siamo sul parziale di 1-1. Esulta, guardate qui, Raffaea, maglia numero 17 per la decisione dell'arbitro che è ineccepibile. C'è il lancio illuminante con il contagiri di Palmiero per la conclusione di Merola. Respinta però dal portiere Borra. Non era il piede a lui più congeniale. Poi c'è l'azione del raddoppio. Molto bella il destro a giro. Chirurgico di Marco Delle Monache. Questo è il settimo gol in stagione. Il terzo dei play-off. Sempre protagonista, grande protagonista. Il 18enne, classe 2005, di Cappelle sul tavolo. L'azione è stata splendida perché Raffaea è riuscito con un colpo di tacco a innescare Merola. Poi Merola, l'appoggio per Delle Monache sterzata, che è un po' la sua caratteristica, il destro a giro. Palorete, nulla da fare per il portiere dell'Entella Borra. Settimo gol in campionato in stagione, per essere ancora più precisi. Il terzo dei play-off. Due in Coppa Italia e due nella stagione regolare. Dunque il Pescara in vantaggio per 2-1. Siamo al sessantasesimo. Il tentativo ancora di Merola su cross di Cancellotti con il destro al volo. Tiro centrale che viene neutralizzato dall'estremo difensore dell'Entella. Settantunesimo. Cuppone ruba il pallone al suo dilimpettaio. Avanza il suo destro che sorprende Borra. 1-3. 3-1 Pescara al minuto 72. Questa è la doppietta importantissima realizzata dall'attaccante Biancazzurro. Maglia numero 27. Pescara dunque segna il terzo gol. Cuppone va a festeggiare sotto la curva dei tifosi Biancazzurri. Erano presenti circa 400 supporters provenienti da Abruzzo. Davvero una grande serata per Cuppone che aveva riconquistato la titolarità. Pensate dopo quattro mesi siamo all'ottantasesimo. Cerca di reagire l'Italia in 10 uomini sugli sviluppi di un calcio d'agolo battuto da Favale. Il colpo di testa di Parodi che sorprende. L'intera difesa Biancazzurro. Un bel gol c'è da dire di Parodi. Ex giocatore dell'Alessandria. Rivediamo ancora una volta Favale e l'inserimento di Parodi. Nulla da fare. Impossibile intervenire per Pizzari. Ben indirizzato questo colpo di testa. Quattro minuti dall'epilogo della contesa. Sono cinque minuti di recupero. Entra anche l'ex Clemenza. Ma non c'è più tempo. Vediamo un po'. C'è ancora un'opportunità per la squadra di casa. Con questo tiro che viene però bloccato dal portiere Pizzari. È stato bravo nella circostanza. Reattivo all'altezza del primo palo. Novantaquattresimo. Lentella sotto di un gol. Prova a lottare. Ma il Pescara è stato molto concreto. Molto pragmatico. Ha segnato in tutte le occasioni che ha creato. Che si sono presentate appunto a disposizione dei suoi attaccati. finisce 2-3 per la squadra di Zdenek Zeman. Pescara vola in semifinale. Affronterà il Foggia la prima partita. Lo Zaccheria domenica 4 giugno. Il ritorno all'Adriatico Giovanni Cornacchia. Giovedì prossimo tra otto giorni. Giovedì 8 giugno. A Chiavari. Pescara batte Entella 3-2.